Torniamo a parlare di uno degli argomenti forti di quest'estate 2015 nella zona del San Donatese. Mi riferisco all'emergenza profughi nel vicino comune di Eraclea. Ne abbiamo già parlato con il presidente di Ascom Faloppa. Oggi ho invitato in studio l'ex sindaco di Musile di Piave, nonché attuale vice governatore della regione del Veneto. Bentornato a trovarci. Grazie. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Emergenza profughi. Già ne avevamo parlato, come accennavo, introducendo la trasmissione con Angelo Faloppa. Angelo Faloppa diceva che si potevano trovare altre soluzioni piuttosto che una cittadina balneare che adesso vive di turismo. Questo tempo fa. Adesso i profughi Eraclea sono tantissimi, sono arrivati ad essere 264. Un bel problema, lo abbiamo detto da sempre. Io sono dell'avviso che la risoluzione era che non arrivassero, quindi non mi interessa Eraclea Mare, Litorale o piuttosto che Caturcata, perché poi a subire i riflessi di questa ondata sono comunque i cittadini. Quindi i cittadini di Caturcata credono siano cittadini di Serie B rispetto a quelli di Eraclea Mare. Certo è che Eraclea Mare, che vive di turismo, vive con gli operatori, ma non solo con gli operatori, con tutti i nostri ragazzi, le nostre donne che vanno a fare la stagione, i nostri quindi personale che va poi a lavorare nelle strutture che ci sono appunto della riviera, hanno delle ripercussioni notevoli. Quindi è indubbio che questo è una catastrofe dal punto di vista dell'indotto, ma soprattutto dell'economia di un intero territorio. Credo che sia stata gestita malissimo. All'inizio ovviamente avevamo già dato le avvisaglie anche al sindaco Talon di tenere in giusta considerazione questo tipo di situazione che stava appunto prendendo una piega veramente pericolosa. Ha voluto al suo malgrado lavorare assieme, quindi con la prefettura, e quindi cercando di concordare gli arrivi, le quote e quant'altro. Poi abbiamo visto che siccome si sta lavorando a vista e c'è un pressapochismo diffuso da parte delle istituzioni più ampie, qua parlo del Ministero, parlo di Roma, quindi del governo, e quindi poverino il prefetto, adesso tutti se la prendono quel prefetto, ma è un mero esecutore degli ordini di Roma, quindi primo da prendere e da appendere. Sarebbe il Ministro Alfano su questa situazione, perché è ovvio che poi quando dà degli ordini e arrivano dei pullman in modo indiscriminato, senza che nessuno sappia niente, imbarba a quelli che sono i compiti, ma soprattutto le attribuzioni a un sindaco, di autorità di pubblica sicurezza, di autorità sanitaria, a tutte le questioni che ovviamente i cittadini già sanno e che sono messe a tappeto da queste invece invasioni, che sono invasioni che arrivano appunto a ore disparate senza appunto che il sindaco o l'amministrazione sappia nulla, mettono poi in difficoltà ovviamente quello che è l'azione anche di recupero dell'emergenza, perché se è pianificata uno la pianifica, ma se gli arriva e ti avvisano scusa sindaco c'è una corriera di profughi scaricati nel bel mezzo della piazza e stanno passeggiando per strada, chiaro che insomma non c'è neanche rispetto delle regole del viver civile. Quindi lei conferma che c'è questa tipologia di arrivo dei profughi e non è una leggenda metropolitana, cioè arrivano e vengono sbarcati proprio così? Provate a chiederlo a Treviso, provate a chiederlo a Montebelluna, al sindaco Marzio Favro, allo stesso appunto Talon, lo stanno vivendo a quinto di Treviso, stanno vivendo tutti i comuni questo fenomeno, quindi le prefetture si vedono arrivare questi autobus, li scaricano sul posto, imbarba appunto alle regole minime del viver civile e si trovano ad affrontare l'emergenza così un po' da soli. Io ho già detto al mio vice sindaco attuale reggente che se dovesse capitare una cosa del genere ormai è diventata una questione veramente che è ridicola e dir poco. Molti sindaci hanno fatto, come quello di Villorba, Serena, ha mandato un autobus, è arrivato, ha chiamato un altro autobus, ha chiamato un mediatore linguistico, gli ha detto guardate io non parlo la vostra lingua, però io vi mando in gita, vi porto da un'altra parte dove veramente avrete delle aspettative o delle possibilità diverse da quelle che può offrire questo mio comune. Li ha ricaricati in un altro pullman e li ha rispediti da un'altra parte, mi sembra un po' una cosa... Ma si può fare così? Si può fare, questa è legittima difesa da parte di un sindaco di un territorio come ha fatto appunto Villorba, che ovviamente non ha, non avendo né strutture né possibilità di ospitare e te li trovi in mezzo alla strada, cosa devi fare? Cosa devi fare? Questa è l'istituzione italiana, per forza siamo il paese delle banane e veniamo riconosciuti per questo. Non c'è certezza della pena quando parliamo di sicurezza, non c'è un minimo di regole quando arrivano i profughi, i sindaci sono messi in balia degli eventi, la prefettura assolve ai requisiti minimi imposti dal ministero, ossia di girare sul territorio questi profughi e dall'altra parte c'è un capo del governo Renzi e un ministro che assolutamente va in Nigeria, va in Africa a piantare gli alberetti, però dall'altra parte si trova i cittadini che sono in balia di queste situazioni che sono veramente da terzo mondo. E torniamo al caso di Eraclea, perché 264 non si era detto uno ogni mille abitanti? Doveva essere così la quota in teoria, doveva essere questa, però è anche vero che quando un cittadino privato, come in quel caso, quel soggetto privato ha messo a disposizione le strutture, è chiaro che la prefettura quando vede che c'è un plafond, c'è un budget che può essere superato perché non ci sono altre soluzioni diverse o attuabili come quelle per esempio di San Donato di Piave o di altri comuni, è chiaro che va a riempire quel serbatoio fin tanto che c'è spazio, perché ormai questa è emergenza pura, per cui si va a sforare abbondantemente su queste situazioni, per cui io non vorrei accettare, non accetterei mai i patti con le istituzioni, soprattutto quelle romane, specialmente in questo campo, perché poi abbiamo visto come è andata a finire, Talon si trova con 250 profughi nel suo comune, quando dovrebbe averne 12, e quindi per essere troppo buono e andare a mediare con l'istituzione, oggi si trova in questa situazione qua che non riesce più a averne a capo, io l'ho anche accusato perché ovviamente... Si è successo un po' un battibecco fra di voi due, Talon ha accusato lei, se l'ha presa con il prefetto, se l'ha presa anche con il governatore del Veneto. Si ma questo qua è in balia ormai, insomma è andato, perché poverino capisco la sua situazione, è veramente difficile da gestire, ha le associazioni di categoria, i cittadini ferociti, ha tutto un paese contro, si è trovato a gestire una situazione forse più grande di lui in quel momento, ma quello che io reputo e che dico apertamente a Talon che ha sbagliato, è quello di aprire con l'istituzione e con la prefettura un tavolo, sapendo bene che in quel sito vi era una pericolosità, perché c'era veramente tanto spazio di manovra per entrare con numeri paurosi, e invece di dire no assolutamente e farle barricate come avevo fatto io, anche in termini di sindaco con tutte quelle ordinanze, contro tutta la questione per esempio legata ai fabbricati, e quindi alla questione dell'igienico-sanitario, alle questioni appunto del numero massimo di residenti per ogni appartamento, tutte quelle forzature che un sindaco fa, per mettere nelle condizioni chi arriva di dire no, prima dovete sottostare alle mie regole, quindi anche quella famosa che mi ha criticato, che mi ha detto che facevo terrorismo, o impaurivo il territorio con quell'ordinanza anti-ebola, o volgalmente chiamata anti-ebola, perché era comunque contro tutte quelle malattie infettive che ci sono, che ci possono essere, io quella l'ho fatta, e se qualcuno arriva con un pullman e lo fermo, prima di scendere dal pullman, deve dimostrarmi il Dipartimento di Prevenzione, quindi dell'ASL, che quei soggetti che scendono dal pullman, sono comunque in buono stato di salute. I controlli dovrebbero essere fatti appena loro arrivano, Purtroppo abbiamo visto che non è così, se vediamo che a volte per strada si trovano, che arrivano per esempio dalla Slovenia, arrivano da altri confini, e vengono portati nel nostro territorio solo perché sono trasportati da qualche camion, che li porta, quindi come portare della merce sul nostro territorio, possiamo pensare che questi arrivino con un certificato medico di buona salute? Assolutamente no, mezzi di questi scappano prima ancora di essere identificati e controllati, quindi insomma c'è un marasma totale, dobbiamo dirlo la verità, e il governo su questo si deve davvero vergognare. Rimanendo nel rapporto tra lei e il sindaco di Eraclea Talon, c'è stato insomma un battibecco abbastanza violento, e lei addirittura... Io l'ho querelato, perché lui si è permesso di dire che, siccome io l'avevo avvisato due mesi fa, stai attento che arrivano i profughi Eraclea, e l'avevo saputo da vie traverse vicine alla prefettura, e quindi a chi poi opera sul territorio, lui è andato a dire in preda al panico, quando non sapeva più appunto in chi incolpare, D'Azaia, quindi Forcolin, tutti sono buoni parafulmini, ha detto che io sarei stato, o avrei fatto da tramite, fra la cooperativa e il soggetto privato, nel portare i profughi Eraclea. Cioè, finché si scherza, si scherza, però io non conosco queste persone, non ho un minimo idea di chi siano queste persone, per cui quando si fanno nomi e cognomi, e si fa il microfono magari con testimoni, in un consiglio comunale, io questo non posso tollerarlo, e ho già presentato querela nei confronti del sindaco Talon, e gli chiederò i danni per diffamazione, e dico già appunto che i soldi che dovrà darmi per diffamazione, li darò alle famiglie in difficoltà di Eraclea, quelle che lui non sta tutelando oggi. È un problema davvero difficile, poi noi sicuramente andremo anche a sentire il sindaco Talon, per dare diritto di replica. Un'ultimissima domanda, lei adesso ricopre un ruolo abbastanza importante. L'emergenza profughi non terminerà, e che cosa farà la regione del Valle? Il problema è proprio questo, che la regione Veneto, come i sindaci, l'ho detto prima, quali sono le possibilità e gli spazi di manovra dei sindaci? Pochissime, se non tutelarsi all'interno delle proprie ordinanze, e quindi del proprio territorio, per cercare di salvare il salvabile. La regione ha zero competenze in materia di sicurezza, in questo senso dei profughi, quindi non ci sono competenze specifiche per la regione. Io credo che se ci fosse veramente una programmazione, nel dire le quote per il Veneto sono 5.000, questo lo dico a titolo personale, ovviamente da ex sindaco, se ci fossero 5.000 quote da poter ottenere per i Veneti, per questo tipo di emergenza che c'è, ma ci fosse una programmazione che dice le barriere sono chiuse, andiamo ad aiutarli a casa loro, quindi questi sono quelli che sono entrati, cerchiamo di aiutarli, uno ogni 1.000 abitanti, se fosse vero, attraverso le associazioni di volontariato, attraverso la Caritas, attraverso le nostre strutture, si potrebbe anche dare un messaggio di questo tipo di accoglienza. Il problema è che stiamo ragionando veramente nel vuoto, e barcollando nel vuoto, perché oggi sono 5.000 quelli che prospettano il Veneto, domani potrebbero essere 10.000, perché non 20.000? Se stanno arrivando 200.000 profughi dal Nord Africa, di questi pochissimi reduci da guerre, vuol dire che veramente non sappiamo neanche dove andremo a parare, e allora uno come fa a fare una programmazione e dire io sono accogliente se non so neanche di cosa sto parlando? Perché quei 5.000 veramente sono un numero, un'innezia, ieri sono arrivati in 2.200, se c'è questo esudo massiccio, non si può fare una programmazione, quindi come posso dire di sì se domani invece che 5.000 il Veneto deve accoglierne 50.000? E dove li mettiamo? Ci devono dare anche le soluzioni per questo, insomma. Quindi il gran responsabile oggi di tutta questa architettura è il governo e mi stupisce che il ministro stia veramente barcollando nel vuoto e il premier stia andando in giro per l'Africa, non so perché, magari a portarne qualcun altro. E poi ci sono i poveri sindaci, mi si consenta di passare questo aggettivo, i poveri sindaci che devono... Solidarizzano i confronti di Talon per la sua vicenda in casa, però dico anche che l'ha gestita male e oggi appunto è andando un po' in cerca di qualche scusante, sta anche andando sul pesante ad accusare persone come il sottoscritto che insomma non hanno nulla a che vedere con le proprietà, nelle società, nelle cooperative che gestiscono questi problemi. Lei ha fatto bene a dichiararlo così pubblicamente e poi noi andremo anche a sentire anche a sentire il sindaco Talon. La ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, ringraziamo appunto Gianluca Forcolin, vice governatore della regione del Veneto e alla prossima.